Estra servirà a 10 regioni italiane, tra cui Toscana e Marche. Estra Energie si è aggiudicata a un appalto Consip per 340 milioni di metri cubi e 215 milioni di euro per fornire metano alle pubbliche amministrazioni. Sono 3200 gli alunni, i piccoli leoni di Ancona, Arezzo, Prato e Siena, che partecipano alla seconda edizione di Roar Risparmia, Ricicla, Ruggisci. Il progetto di educazione ambientale di Straligut Teatro ed Estra. Cervet Rating Agency conferma anche per il 2018 il rating a 3.1 di Estra. Cervet colloca Estra nella fascia di sicurezza del suo rating, a convalida della crescita nel 2017 del gruppo energetico. Sono 13 le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli installate da Estra in Toscana. Le ultime 3 sono state inaugurate a Vaiano, il comune della Val di Bisenzio, in provincia di Prato. Le ultime 3 sono state inaugurate a Vaiano, il comune della Val di Bisenzio, in provincia di Straligutze, in provincia di Straligutze, in provincia di Straligutze, in provincia di Straligutze, in provincia di Straligutze.